Ma il Napoli dopo la mezz'ora ha fatto più serie le sue minacce. Una punizione di Diaz ha trovato Galbiati sulla traiettoria, ma quattro minuti dopo, al trentottesimo, la manovra Pellegrini-Crisci-Manni trova Diaz appostato ed è 1-0 per il Napoli. Nella ripresa Bersellini ferma Torrisi e lo sostituisce con Bertoneri. È la mossa giusta e il Torino si vivacizza, spinge di più. E al ventinovesimo Borghi completa un'azione manovrata in area azzurra battendo Castellini.